derivante dalla vera e propria rapporto dalla dimensione x attraverso corrado piancastelli la cura di giorgio di simone entità a la presenza dello spirito nell'ambito della materia sulla terra ha però un duplice aspetto vi è la presenza più completa direi storica derivante dalla vera e propria incarnazione e vi è quella indiretta come influenza a distanza che lo spirito esercita sul mondo materiale e sociale e sulla sua organizzazione tale rapporto mediato può essere sia di tipo generalizzato sia di tipo particolare come ad esempio nello svolgersi dei fenomeni paranormali di origine estrinseca cioè non derivante dall'animismo dei viventi è è è è Grazie a tutti